Montagne russe, parte prima! Anche il dito fa! Sta a vedere ora! Ora si vuole! Ti vuole il telefono, amore, non lo puoi tenere il telefono! Oddio, mi devo tenere! Reggiti! Due bimbini, due dodicenni sulle montagne russe! Ora ti vuole l'iPhone! Piano! Oddio, eccola! Oddio, canta! Oddio! Oddio! Ma è già chiuso? Sì! Oh, ho le lacrime! Adesso non è giro! Sono arrivati! Vediamo! Grazie a tutti.